Ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite altre 15. Il 24enne cittadino somalo arrestato dalla polizia a Wartburg in Germania. L'uomo è stato colpito a una gamba da un agente che così è riuscito a fermarlo. Apparentemente si tratta di un gesto solitario, ma le indagini sono appena cominciate. Hans Jochen Schreppfer, difensore dell'assalitore, spiega che si dovrà indagare su quale sia il movente, dato che al momento la strage è inspiegabile. Potrebbe essere l'atto di una persona fisicamente disturbata, dice il legale, e per questo fare illazioni su presunti legami con l'islam è prematuro. In attesa di saperne di più, l'opinione pubblica della cittadina bavarese torna a provare la paura di possibili attacchi terroristici, circostanze che in passato non sono purtroppo mancate. Anche le autorità regionali sono intervenute per rassicurare la popolazione. Marcus Söder, presidente della Baviera, ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ha definito l'accaduto scioccante e inconcepibile. La cittadina bavarese negli anni scorsi aveva già vissuto un incubo analogo. Il 18 luglio 2016 un diciassettenne afghano era salito su un treno locale diretto verso Würzburg armato di asce e coltelli, ferì quattro passeggeri prima di essere ucciso dalla polizia.